Grazie a Peter e la Grand Noir per l'invito, che apprezzo molto. Io farò una canzone sola di sei minuti in lingua italiana, due persone la conoscono già. Secondo me dovrebbe stare bene in questo contesto. È un tributo a un gruppo tedesco che a me piace molto, che si chiamano Kraftwerk. Nel 1974 hanno fatto un LP che si chiama Autobahn. Io ho sempre pensato che sarebbe figo fare un sequel. Ci ho pensato parecchio, poi ho trovato questo che vi propongo adesso. Dovete cercare di immaginarvi che siete stati a Roma per lavoro e state tornando di notte. Sono le due di notte, siete in autostrada, siete in due. Voi siete sul sedile, voi non guidate, ma siete sul sedile, come si chiama, by Farositz. E vi siete addormentati. È sull'altezza di Bologna, Firenze-Bologna. Vi state svegliando, ancora un mezzo addormentati. Questa è la situazione. Questa è la situazione. Aggiornamenti su traffico e viabilità, le conseguenze del maltempo, delle ultime ore, le chiusure su diversi tratti stradali per allagamenti. Sulla strada Leone 1, via Aurelia, strada chiusa per Frana, tra Pianti, Barca e Ricodo, il Golfo di La Spezia. In entrambe le direzioni la strada sarà chiusa per tutta la notte. Incidente tra Genova, Bolzaneto e Busanna, verso Milano, in direzione nord, chilometro 119, materiali dispersi, tra Genova, San Pierdalena e Genova Este, in direzione di Milano. Animali segnalati tra il nodo di ramazzone a 26, a 4, Torino-Trieste, Vercelli-Ovest, in direzione sud, presenza di un cane. Adesso, attenzione, è segnalato un incendio in A30, siamo tra il bivio A30, la 1 Milano-Napoli, in Ola c'è del fumo in carreggiata, l'incendio a chilometro 16,500, quindi massima prudenza, è stato dato fuoco del materiale presente sotto il viadotto, quindi al momento la visibilità è ridotta da questo fumo che è presente in carreggiata. Si continua a lavorare per le locazioni di ripristino, dopo un incidente del popoligio che ha visto il ripartamento e il rimorchio di un mezzo pesante, si creano tanto e tanto rallentamenti per curiosi, anche in direzione opposta nello stesso tratto. Dobbiamo segnalare al chilometro 89 della Bolondetta Aranto, un incidente, al momento il traffico è fermo e bloccato, incidente anche da 1 tra Ponte Gorbic e Brama, direzione nord Roma, siamo al chilometro 650 e 300, qui non ci sono problemi, in rapiabilità, nei coro dei ralentamenti, un mezzo pesante è finito fuoristrada. Ancora l'incidente, invece determina la chiusura, è la 14 dello svincolo di Cesena Nord, in uscita per le provenienze da Bologna, un incidente all'altezza del quadro 93 e 6, vede impegnati nel recupero di materiale disperso nelle trave, per cui l'uscita è consigliata, perché proviene da Bologna e quella di Cesena Nord. Due le segnalazioni per la nostra sicurezza, la prima è sulla A24 a Roma-Teramo, vengono segnalati gli animali su strada, siamo tra Torni in parte e l'Aquila ovest, mentre sulla A14 principale di Taranto viene segnalata una perdita di barico tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in direzione di Taranto. Un incidente segnalato sulla diramazione di Roma a sud tra gli svincoli di Torre Nova e l'allacciamento col grande raccordo anulare in direzione del grande raccordo, si tratta del tamponamento tra due vetture, mentre sulla tangenziale di Napoli un veicolo fermo in panne, si tratta di un veicolo fermo in panne all'interno della galleria, quindi massima attenzione. Rallentamenti invece per un senso unico alternato sono segnati in questo momento sulla statale 372 Telesina, a causa di un mezzo pesante ribaltato c'è stata anche perdita di carico tra il bivio per Gioia Sanitica e il bivio per San Salvatore e Telesino in entrambe le direzioni a chilometro 30. Ricordiamo che ci sono diversi disagi in questo momento sulla nostra rete viaria, attenzione a un veicolo in fiamme sulla 25, tra Chieti e Scaffalano in direzione della 24, poi abbiamo un veicolo fermo in avaria sulla 4, tra Caminago e Trezzo in direzione di Brescia. Sulla 12 Genova-Rosignano ci sono code di 6 km per un incidente avvenuto tra Genova-Est e Recco in direzione di Livorno, anche sulla 8 Milano-Varese ci sono code per un incidente tra lo svincolo di Bustarcizio e Castellanza in direzione di Milano. Per il momento questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e vi auguriamo buon viaggio. Grazie per la visione! Grazie per la visione!